268 nuovi casi di covid. Oggi in Abruzzo il tasso di positività è pari al 4,3% dei 6.185 test processati nelle ultime ore, di cui 2.271 antigenici e 3.914 molecolari. Il più piccolo tra i contagiati ha un anno, il più anziano 96. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 5 nuovi casi e sale a 1.446, di età compresa tra 61 e 91 anni, 3 in provincia di Chieti, 1 in provincia di Pescara e 1 in provincia di Teramo. I guariti sono 273. Attualmente in Abruzzo vi sono 10.066 positivi accertati, meno 10 rispetto a ieri, sottraendo il numero dei guariti e dei deceduti. 399 pazienti, meno 3 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva. 40 con 3 nuovi ricoveri in terapia intensiva, mentre gli altri 9.627, meno 7 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con una sorveglianza attiva da parte delle ASL. Lo comunica l'assessorato regionale della Sanità.